Sabato 6 maggio e domenica 7 dalle 10 alle 20 ad ingresso gratuito a Villa Pottino si svolgerà Opificia, speciale festa della mamma. Opificia è una manifestazione nata nel 2019 sempre a Villa Pottino, un evento che negli anni è cresciuto moltissimo. Normalmente riusciamo a realizzare circa 3.500-4.000 ingressi nel weekend. Un evento che comporta la partecipazione di tanti artigiani siciliani, quindi dalle province di Palermo, Cateania, Grigento, Trapani, e che negli anni è cresciuto tanto anche facendo conoscere un villino Liberty come Villa Pottino molto importante. In esposizione ci saranno degli stand dedicati a cosa? Allora c'è la ceramica artistica in varie declinazioni, ci saranno le borse, ci saranno le bambole, una cosa molto particolare, ci saranno gli spazi enogastronomici, gli accessori per donne e anche gli accessori per uomo. Quindi diciamo che gli avventori troveranno tanti spunti per poter acquistare oggetti fatti unici e fatti a mano. Un evento che è cresciuto negli anni? Sì assolutamente, è un progetto che nel 2019 era un qualcosa di embrionale, fatto in un posto che per le prime volte apriva al pubblico e devo dire che nel tempo è cresciuto molto, molto, molto. Villa Pottino ovviamente è un punto di riferimento in città, posto centralissimo in Vienotar Bartolo, quindi a due passi all'albero di Falcone. E credo che è una forma di resistenza culturale per chi conosce la storia anche di Villa Pottino, quindi siamo molto orgogliosi di questo.